Il Tribunale di Ancona ha emesso oggi la doppia condanna all'ergastolo per Francesco Candiloro e Michelangelo Tripodi, 44 e 43 anni, entrambi calabresi, entrambi ritenuti gli esecutori materiali dell'omicidio di Marcello Bruzzese, ucciso a colpi di pistola in pieno centro a Pesaro il giorno di Natale del 2018. Marcello Bruzzese era il fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Bruzzese che dal 2003 testimoniò in diversi processi di Drangheta. Fu ucciso in via Bovio scaricando sulla vittima due interi caricatori di pistoliche calibro 9 davanti al garage di casa dove Bruzzese viveva in incognito da alcuni anni. Un delitto che gettò l'inquietante ombra della criminalità organizzata sulla città di Pesaro. Secondo l'accusa Candiloro e Tripodi eseguirono una vendetta trasversale per conto della cosca calabrese Crea. La sentenza è arrivata oggi dopo la discussione davanti alla giudice Francesca De Palma. Resta ancora sotto processo a Pesaro il presunto complice Rocco Versace accusato di aver partecipato alla pianificazione dell'omicidio.